di origine non c'è più però vediamo come era appoggiata i romani sono stati bravissimi a gestire l'arco, gli archi in questo senso sui due file poi nell'altro senso ci potete appoggiare di più in questo senso l'arco l'arco è un'ultimo e l'arco 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 di l'arco La pietra non è molto resistente, quindi hanno scelto a fare un taglio più grosso, che dà questo aspetto massiccio dall'esterno, non è una struttura molto tramorata, perché non la si poteva fare in quel modo. 30.000 spettatori, due spettacoli, ma la ci dico no? Guarda, la zappa mi dà fattiglia! E' bello, però è vero che mi dà fattiglia anche! E' bello! 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 Grazie a tutti. 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 conム jersey. A tutti. a tutti. a tutti. a tutti. E non camminate? Non lo diciamo, io sto facendo il video, io sto facendo il video. No, non lo diciamo. No, non lo diciamo, io sto facendo il video, io sto facendo il video, io sto facendo il video. Io sto facendo il video, io sto facendo il video, io sto facendo il video. Io sto facendo il video, io sto facendo il video. Hai visto dove sta? Giù c'è il letto. Come il messo? Come il messo? Ah bello qua. Ampio bilocale. Architetto, allora come vogliamo fare qua questa, come la vogliamo aggiustare questa casa? Giù tutto. Giù tutto, giù tutto, di cui dicono giù tutto. Giù tutto. Giù. Andiamo a guardare qua qua. Andiamo a guardare qua questa casa. Quanti tirometri? Ah sì, hai detto 68 anni? Sì, 4 anni. Ma qua il problema è attraversare uno specchio d'acqua. Quello è un miraggio, no? Guarda, qua è proprio molto più evidente. Facciamo come ha fatto Mosè. Uguale. Ci abbiamo il bastone. Verrà nel video? Eh, perché se entra a Vede, la montagna, che assomiglia a un vaso scorso, ha un dromitario accomacciato. Ah, lo diceva il fatto della... Sì, la testa a scorzette, però se ne fa così, la testa, perché come era molto tempo fa, poi le piogge hanno ricordato la montagna. Ah, ok. Sì, la testa a scorzette, è un cammino, è un cammino, è un cammino, è un cammino. Questo è un cammino, è un cammino. Ehm, è un cammino. È un cammino, è un cammino. Ragazzi adesso Sto videando, si vola No ma poi lo spettacolo di fronte Si continua qua No ragazzi no No ragazzi no Ma poi la cosa divertente Perché mi ricordo pure in Turchia La padocia Che loro si divertono Allora tu vedi E sono tutti divertenti